Nonostante le restrizioni in vigore durante le feste e natalizie, alcuni comuni del Cilento non hanno rinunciato alla distribuzione delle calze della Befana ai piccoli cittadini, nel rispetto delle norme anti-Covid. Nella giornata di ieri, il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, appoggiato da tutta l'amministrazione, ha dato il via alla distribuzione che si concluderà nella giornata di oggi, 5 gennaio. Oggi i ragazzi del nostro servizio civile, coordinati dal consigliere comunale Angelo Mascolo, hanno iniziato a distribuire le calze della Befana a tutti i bambini e a tutte le bambine della scuola materna, primaria e secondaria di Velina e di Pantana di Castelnuovo Cilento. Buona Befana, bambini e bambine carissimi, Castelnuovo Cilento c'è, sono le parole del post pubblicato sulla pagina del comune di Castelnuovo. Anche l'amministrazione comunale di Postiglione ha sposato la stessa iniziativa. In un momento triste, si legge sulla pagina social del comune, che per forza di cose ci vede distanti, abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza alle famiglie postiglionesi ed in particolar modo ai più piccoli, che possono in qualche modo ricordare anche questa situazione come un momento sereno, almeno per loro, attraverso un piccolo omaggio da parte nostra in corso di distribuzione, che questo nuovo anno sia un monito di speranza per tutti. Buone feste. A Ogliastro Cilento è l'oratorio parrocchiale Giuseppe De Stefano, che ha chiamato la Befana. Un aiutante speciale, infatti, passerà per le strade di Finocchito, di Ogliastro e di eredita nel pomeriggio di martedì 5 gennaio e lascerà a tutti i bambini una calza con qualche leccornia. Tutti i bambini e ragazzi avranno un piccolo dono, si legge nella pagina dell'oratorio, perciò fate attenzione a partire dalle ore 14. La Befana, troppo impegnata, sarà sostituita da un aiutante speciale. L'aiutante si farà riconoscere con musica e clacson e lascerà ad ognuno una calza. Aspettate l'arrivo dell'aiutante della Befana dietro la finestra o sul balcone e ricordate di rispettare le norme anti-Covid.